Gravina di Puglia, Fiera di San Giorgio, come si preparano i cittadini? Andiamo a vedere. La Fiera San Giorgio di Gravina, 720 anni di tradizione e di cultura, come vi state preparando? Come si stanno preparando il comune? Io non lo so sinceramente ancora, però so che tutti gli anni fanno una bella fiera, è sempre sentita molto dai gravinesi e dai forestieri più di tutto. Questo è un evento storico a Gravina, già il fatto che sono 720 anni, come ha detto lei, noi la cittadinanza si prepara con entusiasmo. La voglia è come lo aspettiamo, sono 700 anni, ho lavorato in fiera, io sono un tecnico, ho lavorato per 10 anni. A me piace andare a vedere tutti gli anni, ci vado, ma non tanto le barracche che stanno fuori, quanto all'interno, che piace moltissimo come si svolge in questi periodi, negli ultimi anni. È una bella cosa per Gravina. Però gli altri anni com'è stata? È stata buona, non ci possiamo. Adesso è bella, prima abbiamo fatto la fiera. La fiera che abbiamo visto ieri, di animali, di trebbiature, di tutto, era una cosa fantastica, era proprio, che dire, si faceva imbazzire di tutte quelle cose che c'erano, era una cosa bella. Grazie. E' nata come fiera agricola, adesso è diventata una fiera industriale. E' migliorata nel tempo, negli anni? Sì, 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 sì. E' un gioiello. E' un gioiello, molto bello, e ce la invidiano. Anche perché poi negli ultimi tempi questa fiera, grazie anche alla nuova amministrazione, la sta mettendo su in modo tale che venga anche visitata non solo da cittadini gravinesi, altamurani e dei dintorni, anche in una circonferenza più ampia. E' una fiera importante per la regione Puglia, so che adesso... E' la migliore d'Italia. E' la migliore d'Italia, niente a togliere tutte le altre fiere di Bologna, di Milano, noi siamo i più antichi. Tutti 120 anni? Già l'antichità ti dice qualcosa. Come vi state preparando? Beh adesso non ci sa ancora niente, non vi possiamo dare nessuna dritta, che non ci sa ancora niente, né quando si fa, né che cose deve fare, non ci sa niente. Allora la fiera, non sappiamo ancora se si fa o meno. Perché questo? E' perché non c'è nessun manifesto ancora, non dice niente a nessuno. In più io mi sto preparando comunque, con le salsicce. Ecco, vediamo queste salsicce. Tutta quella roba lì? Quell'altro è stato l'altra, era stato in fiera, ho portato quei prodotti. Ah, vedi, vedi. Cosa vorresti dire al sindaco in questo momento, per quanto riguarda la fiera? Che noi siamo pronti. Sono contento che tra un po' apriamo la fiera e ci deve essere tanto commercio, tanta gente, tanti turisti. Invitiamo i telespettatori? Sì, infatti tra poco ad aprile verranno un po' di amici miei, i colleghi di lavoro, che sono già 15 anni che sono in pensione. Io sto impogliando, su Facebook vedo soltanto il Gravina FBC e tutte le vedute di Gravina che sono bellissime. Io sono andato in Toscana, in Umbria, in centro, sono belli, ma Gravina se stava là andava sopra. Purtroppo i nostri, posso dire, i nostri vecchi politici ci hanno messo sotto i piedi. Gravina FBC